Ho stelato un elenco di malattie che reagiscono positivamente ad una dieta a base vegetale, non necessariamente all'intera dieta, ma anche solo ad alcuni dei suoi nutrienti. Tutte le malattie di questa lista possono essere prevenute, fermate e persino debellate anche se sviluppate. Possono essere prevenute, fermate e persino debellate anche se sviluppate. È davvero impressionante perché si tratta di una serie di malattie di cui tutti noi possiamo soffrire nella nostra vita prima o poi e tutte queste reagiscono a questa dieta, fermandosi nel loro sviluppo e recedendo molto velocemente. È stupendo! Se qualcuno si ammala, passare a questa dieta può aiutarlo a guarire. È la medicina migliore di tutte. Molti anni fa, Ippocrate disse, lascia che il cibo sia la tua medicina. Insieme a lui, lo diceva anche Pitagora, sapevano quello che dicevano. Nel giro di un paio di settimane, gli effetti sono rapidissimi, ampi e profondi e le malattie spariscono. E di un paio di settimane, gli effetti sono rapidissimi, ampi e le malattie spiegelano.